30esimo anniversario della morte di padre Pino Puglisi ucciso da Cosa Nostra il 15 settembre 1993 a Palermo è proclamato beato nel 2013. Aiuti dalla mafia e distorsioni concorrenti a Caltafimi confisca da 12 milioni all'imprenditore Vile Francesco Isca legato a Cosa Nostra. La Guardia di Finanza di Palermo ha sequestrato oltre 17 kg di cocaina, arrestato un corriere e la droga avrebbe fruttato oltre 1,4 milioni di euro. Aeroitalia ha presentato il nuovo collegamento per Roma e potenziato il settore del trasporto con la Sicilia. Al via l'ottava edizione della Palermo Comic Convention un evento dedicato al mondo del fumetto, del gioco e della cultura pop. Ben trovati alla prima edizione di Media News di venerdì 15 settembre. Come avete sentito dai titoli ricorre oggi il 30esimo anniversario della morte di padre Pino Puglisi ucciso da Cosa Nostra il 15 settembre del 1993 a Palermo è proclamato Beato nel 2013. Sono passati tre decenni dal giorno in cui a Palermo la mafia decideva di mettere la parola fine alla vita e l'attività di padre Pino Puglisi a Brancazzo. Parroco presso la chiesa di San Gaetano di quel quartiere e oggi Beato assassinato la sera del 15 settembre del 1993, giorno del suo compleanno, dal killer di Cosa Nostra, Salvatore Grigoli, che nel 97, dopo il suo arresto confessò 46 omicidi, tra cui quello di Don Puglisi. La causa di beatificazione venne introdotta nel 1999 dall'allora arcivescovo di Palermo, il cardinale Salvatore De Giorgi. Il 28 giugno 2012 Papa Benedetto XVI promulgò il decreto di beatificazione e il 25 maggio del 2013 Don Pino Puglisi è stato proclamato Beato. Mi sono cambiate tante cose, non smetterò mai di dirlo, non mi stancherò mai di dirlo, perché non possiamo dire che Brancaccio è la stessa di 30 anni fa. Faremmo un torto al Beato Giuseppe Puglisi e svalorizzeremmo quello che è stato il suo sacrificio. Quindi Brancaccio è cambiato, è cambiata nelle persone, è cambiata nell'infrastrutturazione, ma questo è stato possibile grazie alla presenza costante di 30 anni dei volontari del centro di accoglienza per le nostre. Quindi questo è importante dirlo e sottolinearlo, perché altrimenti i giovani gli arriva un messaggio distorto. Tra iniziative promosse nella cattedrale di Palermo, una solenne celebrazione coristica, presieduta dal cardinale Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della conferenza episcopale italiana con i vescovi della Sicilia, alla presenza delle massime autorità istituzionali. Stasera presentata sul sagrato della cattedrale una nuova edizione del discepolo, un testo molto amato dal padre Pino Puglisi, è utilizzato spesso durante i campi come spunto di meditazione. Domani alle 21 concerto oratorio all'interno della cattedrale di Palermo, diretto dal maestro Marco Frisina. Don Pino fisicamente è stato eliminato, non c'è stasera fisicamente con noi, per noi è un'opportunità perché lui vuole continuare a essere presente attraverso noi. Queste le parole dell'arcivescovo di Palermo Corrado Lorefici in occasione della fiaccolata che si è svolta ieri sera a Brancaccio. Lui ci chiede di conservare un cuore umano, capace di assumere le sofferenze degli altri, aiutare soprattutto le nuove generazioni come faceva lui a conservare un cuore umano, ad essere capaci di riconoscere nel volto di ogni uomo, di ogni donna la dignità della persona che va riconosciuta e che va in tutto e per tutto custodita. Passiamo alla cronaca, aiuti dalla mafia e distorsioni ai concorrenti a Calatafimi confisca da 12 milioni all'imprenditore idile Francesco Isca, legato a Cosa Nostra, tra i beni confiscati la società che gestisce l'intera area parcheggio del parco archeologico di Segesta. Beni per oltre 12 milioni di euro sono stati confiscati a Francesco Isca, nato a vita ma residente a Calatafimi, disposta anche alla sorveglianza speciale per 3 anni e 6 mesi. Il provvedimento è stato eseguito dalla DIA su disposizione del Tribunale di Trapani. L'imprenditore attivo nel settore delle costruzioni, della produzione e commercializzazione di calcio e struzzo, secondo le indagini, sarebbe socialmente pericoloso per il legame con il capo della famiglia mafiosa del territorio. Da questa correlazione risulterebbe che l'uomo abbia ottenuto sia le risorse finanziarie per avviare ed alimentare le proprie aziende, sia la copertura mafiosa per espandersi sul mercato, imponendosi così negli affari legati alla realizzazione delle grandi opere pubbliche a danno delle imprese concorrenti. Nel provvedimento di Confisca viene descritta anche la partecipazione di Isca in prima persona a numerosi episodi estorsivi ai danni di imprenditori e avversari. Infatti deteneva l'assoluto monopolio della fornitura di cemento nella intera provincia di Trapani, sostenuto da esponenti di primo piano della criminalità organizzata. Negli anni sono pure emersi i rapporti con Giovanni Filardo, cugino di Matteo Messina Denaro e con Vito Nicastri, il signore del vento, finito nell'indagine della DIA di Trapani che nel 2019 coinvolse un sottosegretario nazionale, politici e funzionari della regione siciliana. Ed è proprio nel corso delle indagini su Isca che gli investigatori della DIA scoprono che il re del calcestruzzo di Calatafimi ha tra le mani il progetto per la realizzazione di un impianto di smaltimento dei rifiuti a Calatafimi-Segesta. La Confisca ha interessato quattro società, di cui tre operanti nel settore di Ile ed una che gestisce l'intera area parcheggio e servizi nella località turistica del Parco archeologico di Segesta. 16 rapporti bancari, 132 beni immobiliari e terreni, nonché 24 automezzi per un valore complessivo stimato di oltre 12 milioni di euro. La Guardia di Finanza di Palermo ha sequestrato oltre 17 kg di cocaina, arrestato un corriere. La droga immessa nel mercato avrebbe fruttato al dettaglio ricavi per oltre 1,4 milioni di euro. Oltre 17 kg di cocaina, occultati in un furgone sottoposto a controllo nei prezzi allo svincolo autostradale di Bonfornello, in direzione a Palermo, sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza. In particolare, nell'ambito dei servizi di controllo economico del territorio, effettuati lungo le rotabili che conducono al capoluogo, una pattuglia del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria sottoponeva a controllo un furgone, procedendo all'identificazione del conducente che nel corso delle operazioni si mostrava particolarmente nervoso e agitato. Per tanti militari hanno effettuato una più approfondita attività di perquisizione del mezzo, trovando, occultati in un doppio fondo del furgone, grazie al fiuto dei cani antidroga Nilo e Leto del gruppo pronto impiego di Palermo, 15 involucri avvolti in buste di cellofan trasparente, riportanti le figie del notofilm e il padrino, per un peso complessivo 17,3 kg di cocaina. Lo stupefacente colore emesso sul mercato avrebbe fruttato al dettaglio ricavi per oltre 1,4 milioni di euro. Il Corriere di Nazionalità Italiana è stato tratto in arresto e condotto alla Casa Circondariale Lorusso Pagliarelli a disposizione della locale autorità giudiziaria che ha convalidato l'arresto disponendo alla misura cautelare in carcere. Truffa all'Unione Europea a Patti, denunciate 5 persone, sequestrati i beni per 80 mila euro. L'impresa agricola indagata attraverso Raggiri aveva dichiarato falsamente la proprietà di numerosi terreni per poter ottenere i finanziamenti. Vediamo. La Guardia di Finanza di Patti, al termine di un'indagine coordinata dalla Procura Europea di Palermo, ha denunciato 5 persone accusate dell'indebita percezione di contributi comunitari per oltre 130 mila euro ed eseguito un decreto di sequestro di beni del valore di 80 mila euro. Sono stati denunciati a vario titolo due rappresentanti legali di una società agricola ed il relativo amministratore di fatto e altre due persone accusate di tentata truffa aggravata ai danni dello Stato e di falso ideologico. Attraverso l'analisi delle domande uniche di pagamento presentata all'Egea, l'Agenzia per l'erogazione in agricoltura, relativamente alle campagne agricole dalle 2013 al 2022, i finanzieri avrebbero accertato che l'impresa agricola indagata attraverso artifici e raggiri aveva dichiarato falsamente la proprietà di numerosi terreni, in realtà facenti parte di un compendio immobiliare ricadente nell'attivo di una procedura fallimentare del Tribunale di Patti. Con tale spediente, i tre indagati hanno indotto in errore l'ente pagatore Agea, concretamente riscuotendo risorse comunitarie per oltre 130.000 euro. Inoltre i due rappresentanti legali dell'impresa e l'amministratore di fatto hanno poi utilizzato i medesimi terreni per richiedere ulteriori contributi, questa volta non percepiti per ulteriori 50.000 euro e anche in questo caso tentando di trarre in inganno i funzionari dell'Agea. 400 milioni di euro dal PNRR per gli ecosistemi marini, importante occasione per le isole Egadi e il Mediterraneo. 400 milioni di euro per il ripristino e la tutela dei fundali e degli habitat marini, il più grande progetto mai avviato in ambito europeo, un'importante opportunità per l'Egadi e per tutte le comunità che vivono sul mare. Il piano, annunciato nello scorso mese di marzo, è stato illustrato dal direttore generale dell'Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale, Maria Siclari, nel corso della prima giornata della scuola estiva di geomorfologia, ecologia e biologia in ambiente marino e insulare che si è aperta a Famignana. Dobbiamo essere pronti ad affrontare l'emergenza dei cambiamenti climatici, bisogna rafforzare il sistema di osservazione degli ecosistemi marini e costieri. Il nostro Istituto mette a disposizione il più grande progetto sul mare mai avviato fino ad oggi in ambito europeo. 400 milioni di interventi che dovranno essere realizzati tra il 2022 e il 2026 di ripristino, ma anche di protezione degli habitat marini attraverso un'articolata attività che prevede l'acquisizione di una grande unità navale oceanografica capace di sondare fondali sino a 4.000 metri. Studiosi e ricercatori si sono confrontati a Famignana sui temi riguardanti la salvaguardia degli ambienti marini e insulari, un'importante occasione di dibattito con i principali operatori che si occupano di gestione degli ecosistemi marini sia dal punto di vista geomorfologico che biologico. Questo importante appuntamento dimostra che Famignana e Legadi possono essere e lo stanno già diventando un centro di propulsione culturale. L'ambiente, il mare, la natura e la pesca sono temi centrali. Da qui, dal cuore del Mediterraneo, si sviluppi sempre più un movimento di tutela e di difesa dell'ambiente e della sua valorizzazione. Parliamo di donazione di organi alla via, l'edizione 2023-2024 del premio Nicola Green, il bimbo statunitense ucciso durante una rapina. I genitori autorizzarono la donazione degli organi salvando la vita a tre adolescenti e tre adulti. Saranno premiati 81 studenti siciliani. Saranno destinati ad 81 studenti siciliani anche per l'anno scolastico 2023-2024 i premi intitolati a Nicola Green, il bimbo statunitense di sette anni ucciso durante un tentativo di rapina il 29 settembre 1994 mentre viaggiava con la famiglia sull'autostrada Salerno-Reggio Calabria. L'assessorato dell'istruzione e della formazione professionale istituisce nove premi per provincia siciliana da assegnare agli studenti che risulteranno vincitori di un concorso sui temi della solidarietà e della donazione di organi per fini di trapianto. I genitori di Nicola se infatti autorizzarono il prelievo e la donazione salvando la vita di tre adolescenti e due adulti, mentre altri due riceventi riacquistarono la vista grazie al trapianto delle cornee. In particolare in ogni provincia saranno attribuiti tre premi da 365 euro per gli studenti della scuola primaria, tre da 500 euro per quelli della scuola secondaria di primo grado, tre premi da 700 euro per gli alunni della secondaria di secondo grado. Gli studenti dovranno presentare domanda di partecipazione al concorso e un elaborato al dirigente della propria scuola entro il 29 marzo 2024. Gli istituti potranno aderire all'iniziativa rispondendo ai bandi degli uffici scolastici territoriali e successivamente una commissione procederà alla valutazione dei temi e alla definizione di una graduatoria. I dirigenti scolastici potranno concordare con le associazioni di volontariato operanti nel settore dei trapianti apposite convenzioni per organizzare conferenze rivolte a docenti e studenti delle singole scuole. L'iniziativa ha lo scopo di sensibilizzare gli studenti al tema della donazione degli organi. La consegna dei premi avverrà il 6 ottobre 2024 in concomitanza con la giornata annuale dei donatori di organi. Il comune di Catania aderisce alla settimana della mobilità con eventi sostenibili e piazza Mazzini pedonalizzata in modo permanente. Vediamo. La città di Catania aderisce alla 22esima settimana europea della mobilità sostenibile promossa dalla Commissione europea e dal Ministero dell'Ambiente con un calendario di eventi in programma dal 16 al 22 settembre. L'edizione 2023 della manifestazione incentrata sul tema del risparmio energetico propone l'assoluta novità della pedonalizzazione permanente di piazza Mazzini compreso il tratto di via Garibaldi sino a piazza Duomo che sarà inaugurata dal sindaco Trantino, dal vice sindaco e da tutta la giunta domenica 17 settembre alle ore 10.30. La giornata clou della settimana della mobilità sarà contrassegnata dal Car Free Day anche con la consegna ai cittadini di un'ulteriore area del centro storico libera temporaneamente dal traffico per lo svolgimento in sicurezza di un ampio ventaglio di attività sostenibili. Numerose le iniziative inserite in calendario dalle tradizionali attese passeggiate a piedi o in bicicletta alle escursioni e visite guidate dall'apertura straordinaria di musei e percorsi ad hoc delle linee urbane sino alle proposte di educazione stradale o promozione culturale e ambientale programmate in sinergia con enti e associazioni di settore. L'obiettivo è quello di tracciare con sempre maggiore forza la strada della sostenibilità e del miglioramento della qualità della vita in città trasmettendo un messaggio di promozione del cambiamento e del rinnovamento degli stili di vita. Il primo appuntamento è in calendario sabato dalle ore 16 alle 20 con la passeggiata cicloturistica Catania-Citrezza che partirà da Piazza Duomo organizzata da Etna Viva e Club Alpino Italiano sezione di Catania. È stato inaugurato a Palermo il Master Universitario Analisi, Prevenzione e Contrasto alla Criminalità Organizzata e alla Corruzione. L'Alexio Magistralis della giornata di avvio è stata affidata a Don Luigi Ciotti con una relazione dal titolo La risposta della Chiesa ai attentati del 1993. Al via la tredicesima edizione del Master APC Analisi, Prevenzione e Contrasto della Criminalità Organizzata e della Corruzione, nato dalla collaborazione tra le Università di Palermo, Pisa, Federico II di Napoli, Torino e Libera, associazioni nomi e numeri contro le mafie. Un percorso accademico unico nel panorama nazionale e internazionale che offre l'opportunità dell'approfondimento teorico e di una formazione professionalizzante sull'analisi, la prevenzione e il contrasto della criminalità organizzata di stampo mafioso così come sulla corruzione politica e amministrativa. L'Alexio Magistralis della giornata di avvio del Master è stata affidata a Don Luigi Ciotti con una relazione dal titolo La risposta della Chiesa agli attentati del 1993. Il problema della mafia è un problema serio, abbiamo sempre detto che è l'ultima mafia dopo gli arresti, le grandi operazioni, tutto quello che è stato fatto, che viene fatto, non dimentichiamoci delle cose belle, importanti e positive ma non basta perché l'ultima mafia è sempre la penultima perché nel codice genetico dei mafiosi ci sta un imperativo, quello di rigenerarsi, di rimetterci in gioco, di cercare nuove strade, nuove modalità, nuove rotte. Allora tocca a noi, anche a noi come cittadini, associazioni, movimenti, chiesa, rigenerarci sempre di più, dare continuità al nostro impegno, non sottovalutare. Oggi nel paese si è passati dal crimine organizzato mafioso nella testa di tanta gente al crimine normalizzato, una delle tante cose, così la droga, così l'usura, così il gioco d'azzardo, così tutti quegli affari che le mafie gestiscono con la loro forza e il loro potere. Certo hanno abbandonato le forme arcaiche e molti sono diventati manager, sono diventati imprenditori. La mafia viaggia anche su livelli molto più alti, usa le nuove tecnologie, però restano i contesti nei territori, lì, lì, che dobbiamo inondare i nostri territori di progetti, di proposte, di opportunità. Non è solo il lavoro importante dei magistrati delle forze di polizia, ma se non c'è una risposta sociale, culturale, educativa più forte, non a spotto, non a qualche momento, ma veramente un investimento forte, forte verso i nostri ragazzi. E cambiamo argomento. Aeroitalia ha presentato il nuovo collegamento per Roma e potenziato il settore del trasporto con la Sicilia. Aeroitalia annuncia l'avvio di nuove rotte da Catania verso destinazioni nazionali e internazionali. Questo nuovo sviluppo mira a soddisfare le crescenti esigenze di trasporto e a offrire un'ampia scelta di opzioni di viaggio, rendendo Catania una strategica porta d'accesso a molte mete di interesse globale. Aeroitalia a partire dal 29 ottobre opererà fino a quattro voli giornalieri per collegare Catania a Roma. Siamo consapevoli dell'importanza strategica della Sicilia, non solo come attrazione turistica, ma anche come hub commerciale e centro di collegamento per molte altre destinazioni. Afferma così l'amministratore delegato di Aeroitalia, Gaetano Intrieri, vogliamo offrire ai nostri clienti servizi di alta qualità e connessioni efficienti da e per la Sicilia, contribuendo così al suo sviluppo economico e al potenziamento delle attività commerciali. La nuova rotta che si aggiunge a quelle operate da e per Comiso, scala al quale Aeroitalia ha guardato sin da subito con importanti investimenti, non solo evidenzia il grande appilla della rete aeroportuale della Sicilia orientale, ma consentirebbe di aumentare la concorrenza con ricadute positive sui prezzi dei biglietti. Archeologia, nuovi ritrovamenti nel parco di Leontinoia, Carlentini nel Siracusano per l'assessorato ai beni culturali, si tratta di un tesoro prezioso che permette di comprendere meglio la cultura dell'antica città. Vediamo. Nel corso della campagna di scavi archeologici avviata lo scorso 28 agosto dal Parco archeologico di Leontinoia e Megara, insieme con l'Università Tor Vergata di Roma, sono state riportate alla luce straordinarie testimonianze di varie epoche. Un'equip composta da circa 30 studenti di archeologia, guidati dalla professoresse Marcella Pisani e Alessandra Molinari, ha operato in due aree vicine sul pianoro settentrionale del Colle San Mauro all'interno del parco. Le strutture ritrovate riguardano un tempio monumentale, già parzialmente emerso nel corso delle precedenti campagne, del tipo a cella senza colonnato greco di età arcaica risalente al VI secolo a.C., ma ancora in uso nella prima età ellenistica. Nell'area di Acente sono state rinvenute invece delle elatomie e strutture di età medievale probabilmente utilizzate come tempio di culto nel XIII secolo. L'importante risultato scientifico sotto il profilo storico archeologico per la valorizzazione della tutela culturale del parco e per le sue ricadute future sotto il profilo della fruzione turistica, afferma l'assessore regionale ai beni culturali e identità siciliana Francesco Paolo Scarpinato, è stato reso possibile grazie al connubio e alla sinergia tra istituzioni culturali di ricerca scientifica, enti locali tra cui i comuni di Lentini e Carlentini e aziende private. A Montemaggiore Belsito si festeggia il Santissimo Crocifisso, evento religioso molto sentito dalla comunità. Oggi e domani anche appuntamenti musicali. Montemaggiore vive questo momento, questo momento di fede in maniera particolare. Io chiamo non religiosità popolare né folclore, per me questa si chiama fede popolare perché è la fede autenticamente cristiana espressa dal popolo di Dio, quindi è un popolo fedele che esprime la fede in Gesù Cristo e mi piace questa festa perché mette al centro Gesù Cristo che è il centro della nostra fede. È la festa che tutti portano nel cuore, tutti i montemaggioresi che sono in giro nel mondo portano nel cuore e lo dimostrano perché ritornano, ritornano dalle Americhe, ritornano dalla Toscana, ritornano dalla Germania. Tutti ci sentiamo vicini, tutti ci sentiamo comunità attorno al nostro Cristo, attorno al nostro Santissimo Crocifisso. Per noi rappresenta le nostre radici, la nostra cultura, il nostro essere cittadino e comunità e quindi lo esprimiamo con questa devozione forte, forte, sentita. Avremo il piacere e l'onore di ospitare Dolce Nera, è uno spettacolo che sicuramente accoglie tutte le età e riesce a essere trasversale e anche questa è una scelta ben precisa perché impegnarsi anche per realizzare un concerto di questa portata vuol dire che bisogna anche riuscire a soddisfare le esigenze di tutte e di tutte le età ed effettivamente è quello che facciamo sempre in ogni festa del Santissimo Crocifisso. Ma non c'è solo questo, ci sarà anche la possibilità di stare insieme, di gustare quelle che sono le specialità di Montemaggiore domani sera e sabato ci sarà un altro grande evento che è quello di una tribute band dei Queen. Al Centro Internazionale di Fotografia Letizia Battaglia di Palermo è stata inaugurata la mostra fotografica Franco Scaldati curata da Valentina Greco e Francesco Guttuso. La mostra è un progetto speciale dedicato al grande poeta e drammaturgo palermitano nel decennale della sua scomparsa ed è visitabile gratuitamente fino al primo di ottobre. Dopo essere stata presentata in anteprima alla Fondazione Oressia di Gibbellina arriva al Centro Internazionale di Fotografia Letizia Battaglia e Cantieri Culturali alla Zisa di Palermo la mostra fotografica Franco Scaldati curata da Valentina Greco e Francesco Guttuso ideata dall'Associazione Culturale Lumpen diretta da Franco Maresco nell'ambito di Il Poeta ha inventato i nomi, il progetto speciale dedicato al grande poeta e drammaturgo palermitano nel decennale della sua scomparsa. La mostra sarà visitabile gratuitamente sino al primo ottobre. L'esposizione presenta le foto di Nino Anna Loro, Letizia Battaglia, Rita Cricchio e Claudia Uzzo. Oltre 20 fotografie che compongono una galleria di immagini in cui il teatro di Scaldati appare colto sul fatto, nel suo generoso restituirsi ai propri spettatori come manifestazione di inquieta ma rigorosa scompostezza che sfide i codici del teatro esaltando la flagranza poetica di quella radice popolare che stava alla base della sua alchimia. Immagini in cui il visitatore potrà cogliere l'entusiasmo partecipe di uno sguardo che vuole farsi complice di ciò che accade in palcoscenico. In esse c'è tutto il desiderio di oltrepassare la soglia scenica per mescolarsi ai corpi degli attori e coglierne l'impressionante profusione di energia e per celebrare il grande drammaturgo che la sua città ha dimenticato. Questa mostra era necessaria perché Scaldati non è mai abbastanza conosciuto dai palermitani, cioè la cosa che stupisce è che il poeta di Palermo è sconosciuto. Non vanno via soltanto i cervelli, la famosa fuga di cervelli o appunto i lavoratori, ma persino la poesia emigra da Palermo. Il progetto speciale Il Poeta ha inventato i nomi coinvolge insieme all'associazione Lumpen, l'associazione Babel, la compagnia Franco Scaldati e il teatro metro popolare. Il colore del vento è il singolo desordio della cantautrice trapanese Aurelia Pandolfini. Nel video ha valorizzato il nostro territorio siciliano attraverso le immagini della tonnara di Scopello, del faro dell'isola di Levanz e della spiaggia di Selinunte. Il colore del vento è il singolo desordio della cantautrice trapanese Aurelia Pandolfini. Girato sulla spiaggia del faro di Punta Secca a Ragusa, il video diretto e montato da Salvatore Massari per arti visive vede protagonista la stessa cantautrice, intenta a compiere il proprio percorso esistenziale. Nel video sono presenti anche alcune immagini di luoghi simbolo della provincia trapanese girati dal biologo marino Sergio Bizzarri, come la tonnara di Scopello, il faro dell'isola di Levanzo e la spiaggia di Selinunte. Il faro rappresenta metaforicamente la meta del difficile percorso che ognuno di noi è chiamato a compiere nell'arco della propria esistenza. Semplicemente una riflessione che parte dalla contemplazione della natura e che affronta temi un po' di tutti noi, quindi che riguardano la nostra esistenza, il senso della nostra vita, quindi una riflessione del tutto personale che ognuno di noi può fare. Come ti sei accostata alla musica? Credo da sempre, partendo comunque dalla scrittura, dalla scrittura dei testi, prima erano dei componimenti poetici che avevano ovviamente un respiro diverso e poi pian piano, musicandoli, sono arrivata alla forma canzone. Ad impreziosire l'intero lavoro la voce del cantatore Yuri Kamisaska, special guest anche nel video, autore di brani indimenticabili tra cui torneremo ancora, ultima collaborazione con l'amico fraterno Franco Battiato. Al via l'ottava edizione della Palermo Comic Convention, un evento tra i più importanti in Italia dedicato al mondo del fumetto, del gioco e della cultura pop che si svolgerà fino a domenica prossima ai cantieri culturali della Zisa a Palermo. Oltre 40.000 metri quadri di allestimenti, più di un centinaio di espositori, 60 ore di spettacoli, incontri, giochi, dimostrazioni ed oltre 50 ospiti provenienti da tutto il mondo animeranno il Festival della Cultura Pop partita ieri fino a domenica 17 settembre ai cantieri culturali alla Zisa a Palermo per un palinsesto di attività che supera le 230 ore di intrattenimento nei quattro giorni. Annunciato attraverso i social il ritorno a Palermo di Giorgio Vanni, il re delle sigle TV, con un esclusivo big live show di circa due ore stasera. Come sempre, grande attenzione anche per il mondo nipponico e del cosplay con le tradizionali gare gestite che si alterneranno tra il palco principale e l'area Japan. Il manifesto dell'ottava edizione del Festival è firmato dal fumettista Marco Failla. Una vastissima area sarà il fulcro dei giochi di ruolo al vivo che permetterà a tutti di visitarlo e di entrare in un vero e proprio parco divertimenti. Infine, grande attenzione, così come avviene già dalla primissima edizione, all'area dedicata al gaming, un padiglione a tema per tutti gli amanti dei videogames e del panorama videoludico. In queste quattro giornate si alterneranno diverse attività, workshop, conferenze, masterclass, proiezioni, live, musica del vivo, nonché imperdibili appuntamenti con ospiti internazionali di una certa violenza. Volevo ricordare che abbiamo quest'anno potenziato anche il comparto cinema e serie tv con la presenza di due star internazionali come Sylvester McCoy, settima reincarnazione del Doctor Who, una celebre serie tv britannica che quest'anno compie 60 anni, che è la serie più longeva attualmente esistente, e l'attore Stanislav Janersky dal cast della saga di Harry Potter. Quindi diciamo ce ne sarà per tutti i gusti. Ricordo sempre il Palermo World Convention non è un evento solo per appassionati, ma è un evento per tutti, per famiglia, quindi invito tutti a prescorrere una giornata qui a Cantieri Cultura e all'Arzesa con noi. Ed è tutto per questa edizione, grazie come sempre per averci seguito, vi ricordo i prossimi notiziari di Media News. Grazie a tutti.